Benvenuto Postcard a Reggio Calabria. Reggio Calabria non è solo un posto dove si può raccontare la storia e i tempi passati vissuti, ma è un posto dove la storia si può toccare con mano. Reggio Calabria è una città che si affaccia sul mare, è un crocevia di civiltà, di cultura, che è appuntato su quello che è il suo potenziale, cioè il mare. Avrete la possibilità di visitare, venendo qui proprio a Reggio Calabria, in occasione anche di Postcard, quelli che sono gli elementi identitari della nostra città dal punto di vista culturale. Castellaragonese, le terme romane, le mura greche, l'ipogeo di Piazza Italia, il nostro fantastico teatro cilè, il teatro più grande della Regione Calabria. Così da creare quello che è un circuito urbano per le aree archeologiche e culturali della nostra città che sia non solo alternativo, ma sia anche parallelo a quello che è la visita per vedere i nostri mitici bronzi di piace. Sul mare è possibile visitare quello che è il giardino botanico all'aperto, che è steso circa un chilometro. Potrete visitare le sue magnolie, ma soprattutto associare a quella che è la risorsa verde, quella che è invece una forma di arte pubblica. Sul lungomare è possibile anche visitare l'Affiteatro, dove sorge una statua che ha un valore anche simbolico, che è l'Athena. Questo è solo un assaggio di quello che potrete trovare venendo qui a Reggio Calabria, per cui spero di aver suscitato la vostra curiosità e vi invito tutti qui a venire a Reggio. Grazie a tutti!